caro signore gesù ti ringrazio per questo nuovo giorno grazie perché anche oggi posso vedere e sentire mi sento benedetto perché tu mi comprendi e mi perdoi hai fatto così tanto per me e continui ogni giorno a benedirmi anche oggi ti chiedo di perdonare tutte le cose che dirò farò e penserò e che non sono da te gradite fin d'ora ti chiedo perdono per piacere caro signore tienimi oggi lontano dal pericolo e da ogni male aiutami a iniziare questo giorno con buoni propositi e immensa gratitudine mantieni pura la mia mente affinché io possa ascoltare la tua voce allarga i confini della mia mente perché possa accettare ogni cosa senza lamentarmi o piangermi addosso e capire che tu hai tutto sotto controllo dammi le risposte nei momenti difficili quando rimango solo con i miei limiti usami per fare la tua volontà voglio essere una benedizione per gli altri rendimi forte perché voglio aiutare chi è debole rialzami dalle mie cadute perché voglio incoraggiare chi si sente perduto desidero in questo momento intercedere per tutti coloro che hanno perso la via per tutti coloro che si sentono giudicati e vorrebbero solo un po di comprensione per tutti coloro che non ti conoscono intimamente e per tutti coloro che si ostinano a non credere in te e ti ringrazio meraviglioso signore perché so che tu sei un dio che cambia la gente e le situazioni ti prego ancora per tutti i miei fratelli perché possano vivere una vita piena di pace amore e gioia e prego anche per tutti coloro che ascolteranno questa preghiera affinché sappiano che nessun problema e nessuna circostanza sono più grandi di te mio unico e amato signore nel nome di gesù amén Alleluia, alleluia, alleluia.